Benvenuti cari amici di MobileOS.it, siamo qui in compagnia dell'Aukitel Original Pure un nuovo dispositivo dell'azienda cinese Oukitel, l'Aukitel sinceramente non so la pronuncia precisa ed è un prodotto con 8 megapixel di camera, stiamo registrando qui un video per vedere come si comporta proviamo magari anche a fare uno zoom, poi torniamo indietro fighiamo su qualcosa di più ravvicinato